Siamo ad Hamburgo, presso il Carnival Maritime, il centro pensante che coordina e compie tutte le operazioni logistiche e organizzative per supportare le oltre 100 navi da crociera dell'intera flotta. E' qui che sorge il Fleet Operations Center, una sorta di centro stella di tutti i dati di posizione e telemetria provenienti dall'intera flotta in giro per il mondo. Da tutte le navi, anche in navigazione, infatti utilizzando internet via satellite in maniera sicura e servizi cloud di Microsoft, ogni secondo arrivano in questa regia un'enorme serie di dati, compresi gli allarmi, che permettono agli ufficiali presenti nel centro di analizzare lo stato della flotta e soprattutto di ottimizzare le rotte in contatto con gli ufficiali di bordo per minimizzare i consumi e assicurare la navigazione più sicura, anche in considerazione delle condizioni meteo. Inoltre, grazie all'utilizzo di sistemi predittivi di intelligenza artificiale, gli ufficiali del Fleet Operations Center possono prevedere, sulla base dei dati ottenuti, possibili guasti in arrivo e quindi impostare le opportune contromisure di manutenzione da effettuare al primo attacco previsto.